Francesco Romizzi, Pratiche di cittadinanza europea, a nome del progetto Buone Idee Giovani, Bando Buone Idee Giovani. Di cosa si tratta? Noi abbiamo promosso uno scambio giovanile tra il territorio aretino, tra il territorio della provincia di Arezzo e un territorio lontano da noi, ma vicino a noi almeno idealmente, ovvero il territorio di Sebrenica, dove più di dieci anni fa c'è stata una strage che tutti noi conosciamo e dove la comunità giovanile sta cercando di risollevarsi dal trauma fisico, ovviamente perché c'è stata una strage, bombe e quant'altro, ma anche dal trauma psicologico che spesso è più grave del trauma fisico. E quindi noi con la comunità di giovani di Sebrenica stiamo, grazie anche a questo contributo, con questo contributo abbiamo realizzato un campo di lavoro e abbiamo portato più di venti ragazzi di questa provincia a Sebrenica e i nostri amici di Arezzo, i nostri coetane di Arezzo sono andati a Sebrenica e lì hanno potuto lavorare con i giovani di Sebrenica per costruire un centro giovanile, poiché a Sebrenica non c'è nessun centro giovanile. Un progetto molto bello, molto importante, che ahimè è finito perché lo scambio è venuto quest'estate, ma è stata un'occasione molto bella per i nostri coetani, per i coetani miei di questa città, per poter conoscere una realtà assolutamente molto diversa, assolutamente più problematica e in qualche modo anche spero e penso che possa essere stata un'occasione di crescita culturale, sociale e civile molto importante.